Oltre la democrazia, di Frank Karsten e Karel Beckman, sul perché la democrazia non conduca alla solidarietà, alla prosperità e alle libertà, ma sia a causa di conflitti sociali, debiti insostenibili e governi tirandici. La democrazia è considerata praticamente da tutti il miglior sistema politico immaginabile. È diventata una religione secolare, una sorta di culto moderno. È la più grande fede politica del pianeta, al punto che criticare l'ideale democratico significa venire additati come nemici della società civilizzata. Ma questo libro affronta apertamente l'ultimo tabù politico, cioè critica il modello democratico e dimostra che la democrazia, contrariamente al credo popolare, non conduce affatto alla libertà, civilizzazione e prosperità, alla pace e allo stato di diritto, ma piuttosto a una progressiva perdita di libertà e soppressione dei diritti individuali. Conduce a conflitti sociali, deficit galoppanti, debiti insostenibili, uno standard di vita inferiore. Gli autori demoliscono i grandi miti a cui si ricorre per difendere la democrazia e propongono un'alternativa interessante, una società basata sulle libertà individuali e una rete sociale di relazioni volontarie. Questo libro permette di capire i problemi sociali, quali sono le cause e la crisi economica in corso. Gli autori Frank Karsten è fondatore di un'organizzazione libertaria contro il carico fiscale e l'intervento governativo. Nelle sue conferenze denuncia la crescente interferenza dello Stato nelle vite dei cittadini. Karel Beckman è scrittore e giornalista.